Torna in campo la Nazionale di Ventura a poche ore dall'1-1 con la Macedonia e dai fischi dello Stadio Grande Torino. Nel pomeriggio gli azzurri si allenano, a porte chiuse, nel rinato Philadelphia, lo Stadio degli Invincibili che da questa stagione è tornato ad ospitare gli allenamenti del Torino dopo anni di abbandono. Un centinaio di bambini delle scuole calcio e gli unici fortunati che potranno assistere all'allenamento. durante il quale il Citi Giampiero Ventura dovrà valutare le mosse da compiere in vista della sfida di lunedì contro l'Albania.